è uscito bene? si ma finisci da rimettere sopra e sotto ste cazzo di canze mi fa senso fa senso ma si dà cazzo non va a toccare girati con queste porca ma ancora ma aggiustatelo là ma come faccio? qua vedi ci sta il calzino e come devo fare? ah qua è una rottura di cazzo aspetta in modo aiuto io